Neanche una settimana di scuola e già tre classi in quarantena in città, due alla dottrina cristiana, un'infanzia, un'elementare, un'elementare in un comune del circondario. Sono bambini asintomatici, scovati con dei controlli fatti in autonomia dalle famiglie, bambini che sono in età non vaccinabile, per questo l'età dei contagiati si sta spostando. Per la ASL comunque la situazione era più che prevedibile e non desta particolari preoccupazioni. Il resto dei contagi è tra persone non vaccinate in età adulta e sono cluster che poi diventano familiari di lavoratori stranieri per lo più rientrati dopo essere stati nel loro paese. La novità di quest'anno è che verranno effettuati dei controlli a campione con testa Livari ogni 15 giorni. In provincia le scuole selezionate sono il comprensivo Mazzini dell'Aquila e uno di Avezzano. Qui ogni 15 giorni gli operatori sanitari della ASL si recheranno per effettuare i tamponi. Tutto questo mentre continua la campagna vaccinale e resta attivo il presidio in piazza Duomo dove non occorre la prenotazione, dove molte persone si stanno recando anche per fare richiami. Si viaggia sui 50 vaccini al giorno e c'è stata una buona risposta ma al tempo stesso la ASL via via sta organizzando incontri nelle scuole con i genitori per incrementare la vaccinazione dai 12 anni in su. Si può dire che ad oggi i contagi tra studenti non sono tanti ma le prossime settimane saranno decisive per capire realmente la situazione. Per quanto riguarda il personale della scuola l'Aquila ha una percentuale di vaccinati altissima e questo fa beh sperare anche nella fascia che parte dai 16-17 anni i ragazzi stanno rispondendo molto bene.